Musica Eccoci, siamo di fronte, anzi siamo dentro di fronte a questi bulmini che aspettavamo da tempo, siamo decisamente contenti di metterli su strada e inaugurarli, sono perfettamente eco compatibili, quindi sono a carica elettrica, faranno un giro all'interno del centro urbano e verranno utilizzati normalmente nella linea urbana. Quindi iniziamo e mettiamo, grazie Progetti Plus, veramente un servizio in più per i nostri cittadini cisternesi e quindi siamo decisamente contenti oggi.